Buongiorno a tutti, ben ritrovati sul mio canale. Allora, primo video del 2019. Allora, oggi facciamo un breve resoconto di quello che è stato il file dal 2022 al 1026. Breve resoconto. Per il resto comunque vi rimando per ulteriori approfondimenti, soprattutto per quanto riguarda la parte, diciamo, di trama che ci interessa. Vi rimando ai miei video precedenti. Quindi vediamo brevemente, diciamo, di che cosa tratterà proprio in breve, perché ancora non abbiamo ulteriori informazioni, il prossimo file. E poi dopo vediamo, vi voglio proporre qualche altro contenuto su Detective Conan. Allora, il file dal 2021 al 1026 trattava, era un caso con Makoto e appena usciti da un cinema si imbattono in una scena, in uno sceneggiato, diciamo, in una sceneggirata di un film che Conan, Sarah, Ran, Sonoko e Makoto credono sia reale. Makoto interviene fermando, diciamo, un potenziale delinquente, ma poi si scopre che è tutta la scena di un film. E a quel punto, allora, il regista vuole ingaggiare Makoto come attore. E dopo, insomma, i nostri protagonisti faranno la conoscenza di questo cast in cui avverrà un omicidio. e poi dopo, insomma, non voglio anticipare niente, perché comunque è un caso, secondo me, comunque piacevole. Non è che sia tutta questa gran cosa, perché comunque, più o meno adesso, dopo 1026 file di Detective Conan, i trucchi un po' decolpevoli sappiamo, sappiamo cogliere quali sono gli indizi particolari che ci portano a puntare il dito contro una persona piuttosto che contro un'altra. Però, comunque, ve lo consiglio ugualmente. E soprattutto, insomma, la questione importante è che Sarah comincia a chiedere, chiede direttamente a Ran se ha mai pensato che Conan e Shinichi siano la stessa persona. E c'è, diciamo, la risposta di Ran è che una volta l'ha pensato in maniera abbastanza seria, solamente che durante la recita scolastica Conan e Shinichi erano separati. Cioè, si trovavano lì, ma erano palesemente due persone diverse. C'era Conan seduto tra gli spalti, tra gli spalti no, è brutto, a teatro seduto e che guardava lo spettacolo e Shinichi invece che recitava nel ruolo del Cavaliere Nero. Come sapete, per chi non lo sapesse, vi rimando a guardare l'episodio che è fondamentale, un episodio molto molto indietro, mi pare che sia intorno al 197-204, insomma qualcosa di simile. In realtà, appunto, Ai aveva aiutato Conan e Ai aveva preso le sembianze di Conan e Shinichi era tornato grande con l'antidoto appunto dato da Ai, almeno momentaneamente. Tant'è che poi dopo, dopo la recita, Shinichi inviterà a cena, le farà una proposta che verrà però interrotta da un omicidio che avviene in quel ristorante e poi dopo l'effetto del farmaco svanisce e quindi Shinichi tornerà a Conan. E quindi c'è questo, diciamo, quindi capiamo, poi, mi ripeto, per sviluppi, per approfondimenti vi rimando ai miei video, però insomma c'è questo, come si può dire, questo sospetto di sera che adesso si fa molto 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 forte e l'unica cosa appunto che le resta da capire è come è possibile che Shinichi e Conan fossero insieme e come è possibile che veramente Conan e Shinichi come ha fatto a tornare grande durante il viaggio a Kyoto. E il possibile anello di congiunzione sera capisce che potrebbe essere Ai, ovvero quella ragazza che lei ha conosciuto sul Mystery Train. Poi c'è chi ha ipotizzato che, diciamo, è appurato che, almeno secondo me al 99%, che il paese di provenienza della madre di sera, ovvero di Mary, sia l'Inghilterra. Quindi c'è il discorso che lei è andata in Inghilterra a trovare il padre, ma il padre sarebbe il padre Akai e quindi è ancora vivo o no? Ripeto, per queste cose vi rimando sempre a un video che ho fatto in precedenza. Comunque c'è chi ha ipotizzato che prima che sera comparisse ufficialmente, nella sua prima apparizione, nel caso dei delitti all'albergo stregato, Conan è comparso, appunto, come sappiamo, in televisione, nel caso Nella Patria di Holmes, quando si è visto ad aiutare Minerva Glass, la famosa tennista. E vi rimando a vedere, se non l'avete visto, vi rimando a vedere questo caso, si chiama Nella Patria di Holmes, guardatelo perché è meraviglioso, se l'ho votato come il più bel episodio di Detective Conan fino ad ora. E magari se era, appunto, vedendo questo ragazzo, che lei aveva conosciuto dieci anni prima, sulla spiaggia, non invecchiato, capisce che in Giappone forse c'è un modo per far tornare anche sua madre grande, come era prima. Qui, insomma, ci sono tutti questi risvolti di cui, appunto, ancora sappiamo poco, ma di cui ho parlato, queste implicazioni anche sul padre di Akai, di cui ho parlato nel, appunto, nei video precedenti, quindi vi rimando a vederli, soprattutto per, appunto, questo approfondimento, che questo caso fondamentalmente ci porta, questo approfondimento sulla famiglia di sera. Questa è la grande, diciamo, la grande novità importata da questi file. E il prossimo riguarderà Amuro, che andrà a Nagano per lavoro, e insieme a Conan, sappiamo solo quello, quindi probabilmente compariranno anche com'è Yamato, eccetera, eccetera. E potrebbe essere, diciamo, un file trama? Io penso di sì, perché comunque quando sono insieme Conan, Amuro, Conan, Sera, Conan, Akai, è difficile che non succeda qualcosa di importante, quindi ci potrebbero essere degli sviluppi, ma potrebbero comunque essere, potrebbero essere veramente degli sviluppi veramente di una piccolezza incredibile, quindi la trama probabilmente potrebbe procedere molto, molto, molto lentamente, quindi senza brusche accelerate. E ultima cosa, appunto, che vi volevo, di cui vi volevo parlare, poi dopo quando ci saranno informazioni più dettagliate sul prossimo file, ovviamente farò dei video, di siccome queste, tutte queste, queste pause che ci saranno, il prossimo file dovrebbe uscire prossima settimana, poi dovrebbe arrivare fino a metà marzo, e poi ci dovrebbe essere un'altra pausa, probabilmente. Tutte queste pause sono un po' noiose, quindi proponevo di far qualcosa, di parlare di qualcosa su Detective Conan, anche che possa in qualche modo colmare queste pause, possa riempire questi vuoti. E pensavo di parlare dei film, io ho fatto veramente poco sui film, ho fatto solo una lista di quelli che sono per ora i film miei, che ho considerato una classifica dei miei film preferiti, ma solo di quelli che sono usciti in Italia, e quindi pensavo di cominciare a parlare anche dei film, dei prossimi film, per esempio il film 22, che quindi potrebbe uscire anche tra poco un video sul film 22. Se siete d'accordo, quindi fatemi sapere, perché è un modo comunque anche per sentire qualche parere, indipendentemente poi dalla trama, qualche parere proprio sulla qualità di un film di Detective Conan, su quanto è strutturato bene il caso, quanto è avvincente la trama, eccetera, eccetera. Queste cose qua, insomma. Quindi, ripeto, già tra poco potrebbe uscire un video sul film 22. E questo è tutto, vi ringrazio, ho visto che anche in questo periodo dove non ero attivo, le iscrizioni sono continuate, sono continuate, quindi vi ringrazio, vi ringrazio, continuate a iscrivervi, iscrivetevi al canale, mettete mi piace se vi è piaciuto, e iscrivetevi se vi piace Detective Conan. Alla prossima, ciao! Ciao!